Il giovedì è riservato alla classica amichevole infrasettimanale nella quale si provano uomini e schemi per la prossima di campionato. Novelli ha già in mente una valida formazione da poter opporre al Castelfidardo e non dovrebbe allontanarsi dalle ultime che hanno bene impressionato. Le due marchigiane aggiornano la loro classifica che andiamo a vedere. Grazie al pareggio interno di ieri nel derby contro la Recanatese, il Castelfidardo sale a quota tre punti. La squadra di Recanati a cinque. La partita diretta dal signor Panozzo di Castelfranco Veneto è stata decisa da due calci di rigore. A quello di Fioretti della Recanatese ha risposto il tiro dagli undici metri di Lodi dei locali. Notizia del giorno, il Castelfidardo ha segnato il suo primo gol stagionale grazie appunto al calcio di rigore. Le cronache parlano del solito castello rognoso e difficile da affrontare. Ma il dubbio è, sarà anche così contro il Campobasso quando i marchigiani inizieranno ad avere una certa necessità di vincere la prima partita stagionale? De Angelis dovrà fare la partita, come si dice in gergo. Questo fattore potrà favorire o meno i campobassani, bravi ed astuti, quando non c'è da dettare i tempi. A dirlo sarà il comunale di Castelfidardo, ridente località della provincia di Ancona, che conta 18.000 anime, nota in tutto il mondo, per essere la capitale delle fisarmoniche. I marchigiani non avranno lo squalificato Bacchiocchi, mentre recuperano filiaggi che ha saltato la gara di ieri pomeriggio. Novelli, dal canto suo, conta di avere tra i disponibili birani. Ieri abbiamo raccontato di un giallo legato ad una doppia figura di procuratore avuta nel periodo di attesa del transfert da parte del centrocampista rosso-blu. Il Campobasso confida di ovviare a questo disguido entro domenica prossima. Potrebbe allettare la soluzione di schierare a sinistra chi impala dal primo minuto, giocatore di corsa e fisico, ma è altrettanto vero che l'esterno è molto capace anche di entrare e spaccare l'equilibrio della gara. Dunque farlo partire dalla panchina per poi inserirlo, per contribuire a scongelare un eventuale risultato di parità, non sarebbe un'idea malvaggia. Torniamo su una questione della scorsa estate. Parliamo dell'intitolazione dello stadio di Selvapiana a Michele Scorrano, argomento posto all'ordine del giorno di un consiglio comunale dello scorso mese di luglio e approvato dallo stesso organo collegiale. Ricordiamo che il promotore di tale ordine del giorno fu il consigliere comunale Francesco De Bernardo. Entro il termine di 90 giorni dalla discussione sarebbero dovuti partire degli incontri per approfondire l'argomento su iniziativa della Commissione Sport e Cultura che ad oggi non si sono verificati. Pare nel contempo che la famiglia Romagnoli stia sollevando non poche rimostranze sulla questione. Lo stesso militare campovassano della Prima Guerra Mondiale, Giovanni Romagnoli, ha intestata nel capoluogo la struttura del vecchio stadio ed una via del centro cittadino. La proposta del consigliere De Bernardo è quella di intitolare a Romagnoli il piazzale antistante il Castello Monforte, cosa che potrebbe gratificare maggiormente la memoria dell'aviatore campovassano piuttosto che l'intitolazione dello stadio. Da questo emittente auspichiamo vivamente innanzitutto che si passi dalle parole ai fatti, cioè che il leader amministrativo abbia un seguito dopo l'approvazione della delibera comunale e che altresì il nome di Michele Scorrano non venga solo utilizzato per dei deprecabili spot elettorali come successo per le precedenti amministrazioni comunali di Campobasso.